Stai ascoltando un podcast Rizzoli Education Vite per l'arte, protagonisti dell'arte del Novecento tra Europa e Stati Uniti, di Valerio Terraroli Margherita Sarfatti, coraggiosa promotrice dell'arte del socialismo, l'anima intellettuale del Novecento italiano Margherita Sarfatti è un personaggio importante della storia non solo dell'arte italiana ma della cultura italiana Margherita è figlia di una famiglia di origine ebraica veneziana, si chiamava Grassini come nome da fanciulla che fin dalla più tenera età, essendo di una famiglia molto ambiente, aveva ricevuto un'educazione in casa che non aveva seguito i tradizionali studi e fin da piccola dimostra un interesse particolare per il mondo dell'arte che frequenta, pensate, la città di Venezia, la biennale, le prime biennali d'arte viaggiando e quant'altro Bene, questa giovane donna si trasferisce a Milano dove poi incontrerà l'uomo che sposerà l'avvocato Sarfatti di cui terrà poi sempre il cognome, anche lui di origine ebraica e insieme i due costituiscono o costruiscono a Milano un piccolo circolo intellettuale proprio a ridosso dell'inizio del conflitto mondiale perché Margherita è molto impegnata nell'ambito proprio della stampa, cioè del giornalismo è una giornalista che si impegna nei giornali del popolo d'Italia ad altri in ambito socialista perché le idee di Cesare Sarfatti, il marito, e di Margherita sono idee socialiste ed è il momento in cui lei incontra sulla sua strada un giovanissimo Benito Mussolini che è socialista naturalmente, come sappiamo, in questa fase della sua vita e a dir la verità, Margherita forse è una delle prime che intuisce in questo personaggio molto sanguigno, romagnolo, come dire, come da tradizione si dice di grande capacità comunicativa, ma anche un uomo non molto colto, come sappiamo ed è Margherita che scrive i primi articoli di Benito, che lui firma ma in realtà sono frutto della capacità di Margherita di organizzare un articolo di giornale pregnante, forte, legato all'interventismo poi la guerra porterà una grande tragedia, l'unico figlio di Margherita e Cesare muore in guerra e sarà, diciamo, un lutto che Margherita porterà con sé molto a lungo però poco dopo la fine della guerra, proprio a ridosso, diciamo, della fine del primo conflitto mondiale la situazione italiana, come sappiamo, è in totale, come tutta l'Europa, in totale trasformazione è il trampolino di lancio di Benito Mussolini e in questo Margherita ha una grandissima responsabilità perché è proprio Margherita che lo spinge in modo chiaro, evidente, nel lagone politico ed è lei che sostiene i primi discorsi politici di Benito e contemporaneamente, oltre a essere la sua compagna di vita Benito Mussolini era sposato con Rachele, come si sa, aveva già una famiglia ma, insomma, sappiamo che queste relazioni, come dire, vanno avanti anche su questo ambito non soltanto, appunto, di sentimentale ma soprattutto lì diventa una forte e solidale accoppiata intellettuale che si spinge in questa linea contemporaneamente Margherita, che ha sempre mantenuto un interesse per il mondo dell'arte contemporanea cavalca, diciamo, l'idea di costituire un gruppo di artisti questi artisti giovani che avevano superato le avanguardie che proponevano quindi una pittura del tutto nuova che era la pittura legata alla realtà, legata al racconto, legato al recupero della storia e questi artisti lei li aggrega, lo fa naturalmente in una galleria d'arte milanese ormai la sua casa, il suo salotto era a Milano ed è la galleria di Lino Pesaro, un altro ebreo che lavora nell'ambito della cultura e dell'arte e raccoglie nove artisti intorno a sé quindi è lei la critica d'arte che sceglie gli artisti facendo di diventare il gruppo e non quello che era successo nell'avanguardia storica in cui gli artisti si aggregavano o con un intellettuale tipo Marinetti e i Futuristi o in altro modo bene, lei promuove questi nove artisti esattamente nei giorni in cui avviene la marcia su Roma sarà un caso? Non credo, è una scelta, è una scelta deliberata da un lato c'è la marcia su Roma dei disquadristi e Mussolini che in quel momento è in Parlamento si candida ad essere poi il capo del governo cioè quindi in una situazione ancora istituzionale ma in cui il fascismo chiaramente sta prendendo in mano le redini del potere dall'altro Margherita, l'amante ancora di Mussolini la sua consigliera, la sua musa, prende in mano le redini della cultura italiana perché? Perché il gruppo di questi artisti si viene chiamato da Margherita il gruppo del Novecento italiano e la scelta di un termine così significa che non ci sono altri artisti in Italia ci sono quelli e è ancora più significativo quando un paio d'anni dopo Margherita organizza una mostra alla permanente di Milano in cui da nove sono diventato un centinaio di artisti sotto l'etichetta Novecento italiano e chi chiama alla presentazione? Benito Mussolini che a quel punto ha già separato la sua vita personale da Margherita sta salendo così velocemente nelle vette del potere che non le serve più Margherita sarà fatta e anzi è diventata diciamo pericolosa e un peso ma in questa fase di passaggio siamo nel 24 diciamo i coltelli non sono ancora spuntati quindi uno aiuta l'altra lei spera che Mussolini metta e quindi il fascismo metta il bollino di qualità sul gruppo del Novecento e quindi diventi l'arte italiana del futuro Benito Mussolini cavalca la tigre perché quella vetrina della permanente è una vetrina importante però quello è l'ultimo atto da quel momento i destini si separano definitivamente Margherita diventa un astro luminosissimo nella cultura italiana degli anni 20 diciamo che combatterà a distanza e da intellettuale con Ugo Yeti che è diciamo l'intellettuale di regime e lei difenderà le sue posizioni diventerà anche la responsabile della Biennale di Venezia quindi vuol dire una persona di rilievo nazionale e internazionale ma soprattutto Margherita a partire dal 1928 che è il momento in cui alla Biennale lei fa la regista degli artisti che si presenteranno che si presentano alla Biennale Margherita comincerà dei tour all'estero prima in Germania poi in Francia poi in Inghilterra poi negli Stati Uniti e poi in Sud America con l'obiettivo di mostrare diciamo il volto culturale del fascismo cioè nonostante Mussolini abbia separato se la sua vita da lei lei continuerà a proporre il novecento italiano e l'arte italiana gestita da lei come la faccia buona, colta come dire, attendibile di un regime che sta diventando sempre più regime siamo tra il 28 e il 30 quindi non si è ancora saldato il rapporto con Hitler non ci sono le leggi razziali e quant'altro però la situazione di Margherita sta diventando una situazione di calata di interesse nel 29 Mussolini scrive una lettera personale che è conservata nell'archivio di Margherita Sarfatti in cui le dà del lei e le dice i destini del fascismo e dei suoi pittori sono due destini diversi quindi taglia definitivamente i rapporti Margherita continuerà a cercare di promuovere l'arte italiana così come lei l'ha pensata un'arte figurativa un'arte che racconta anche i valori che il fascismo portava avanti la famiglia, la maternità, la patria eccetera eccetera un richiamo al classico eccetera però stiamo andando a collassare perché già nel 33 con la presa di potere di Hitler in Germania diciamo tutte le dinamiche della pittura tedesca vengono tutte chiuse e definitivamente annullate con l'arte degenerata la saldatura fascismo nazismo ancora di più si occupa di altro che non di arte di pittura, di cultura il regime è diventato regime l'arte è diventata l'arte di propaganda uno dei suoi pittori più amati Mario Sironi nel 33 pubblica il manifesto del muralismo cioè della pittura che in qualche modo riprendendo la tradizione italiana degli affreschi giotto per dire racconta la nuova ideologia della nuova Italia che è l'Italia imperiale tutto così avanza fino a quando escono le leggi razziali lei è un'ebrea e il suo destino è di abbandonare l'Italia e quindi lei abbandona l'Italia va in Sud America e così come Lino Pesaro dovrà abbandonare la sua galleria e così Cesare Sarfatti che poi morirà Margherita ritornerà dopo la fine della guerra andrà a vivere nella sua casa in campagna vicino alla Svizzera ma nessuno si ricorderà più di lei ma perché? perché lei portava inevitabilmente il marchio di essere stata una fascista e di aver avuto questo rapporto con Mussolini soltanto negli anni 70 fu Rossana Bossaglia la prima a tirar fuori questo personaggio si cominciò a leggere e oggi leggiamo questo personaggio per l'interesse che ha una donna di grande cultura di grande coraggio di grande coraggio di grande forza nel raccontare un'arte nuova seguici su rizzolieducation.it per ascoltare le prossime puntate di Vite per l'arte protagonisti dell'arte del novecento tra Europa e Stati Uniti di Valerio Terraroli hai ascoltato un podcast Rizzoli Education di Vite per l'arte del novecento Grazie per l'arte del novecento